Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, Fratelli e Sorelle, Nel nostro cammino dietro Giovanni, che ci presenta il Io Sono di Gesù nel suo Vangelo, siamo giunti al capitolo 11. Esso è tutto occupato dall'episodio della risurrezione di Lazzaro. L'insegnamento che Giovanni ha voluto trasmettere alla Chiesa con la sapiente composizione del capitolo si può riassumere in tre punti. Primo punto, Gesù risuscita l'amico Lazzaro. Conosciamo l'episodio. Secondo punto, la risurrezione di Lazzaro provoca la condanna a morte di Gesù. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero, che cosa facciamo? Questo uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro, Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Terzo punto, la morte di Gesù procurerà la risurrezione di tutti quelli che credono in lui. L'Evangelista, infatti, commenta. Questo però, Caifa, non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Riassumendo, la risurrezione di Lazaro provoca la morte di Gesù. La morte di Gesù provoca la risurrezione di chiunque crede in Lui. Adesso possiamo concentrarci sulla parola di autorivelazione contenuta in questo brano. Gesù le disse a Marta, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Io sono la risurrezione. Ci domandiamo di quale risurrezione parla qui Gesù. Marta pensa alla risurrezione finale. Gesù non nega questa risurrezione dell'ultimo giorno che altrove Lui stesso promette. Ma qui annuncia una cosa nuova, che la risurrezione comincia già fin da questa vita per chi crede in Lui. Sant'Agostino commenta, il Signore ci ha indicato una risurrezione dei morti che precede la risurrezione finale. E non si tratta di una risurrezione come quella di Lazzaro o del figlio della vedova di Nain, che risuscitarono per morire un'altra volta. Come si vede, l'idea di una risurrezione spirituale ed esistenziale, che ha luogo già in questa vita grazie alla fede, non era ignota nella tradizione cristiana. La novità è intervenuta quando si è voluto fare di essa l'unico significato della parola di Gesù. È nota la posizione di Bultman, ora in gran parte superata, ma che furoreggiava quando studiavo teologia io. Secondo lui, la risurrezione di cui parla Gesù è una risurrezione esistenziale, un risveglio di coscienza basato sulla fede. Siamo sulla linea del vago appello alla decisione, o del decidersi per Dio, a cui egli riduce praticamente tutto il messaggio evangelico. Ma Giovanni dedica due interi capitoli del suo Vangelo alla risurrezione reale e corporale di Gesù, fornendo alcune delle indicazioni più dettagliate su di essa. Per lui, dunque, non è solo la causa di Gesù, cioè il suo messaggio che è risorto da morte, ma la persona di Gesù, non la causa. La risurrezione attuale non sostituisce quella finale del corpo, ma ne è la garanzia. Essa non vanifica e non rende inutile la risurrezione di Cristo dalla tomba, anzi si fonda proprio su di essa. Gesù può dire, io sono la risurrezione perché lui è il risolto. Prima di Giovanni è stato l'Apostolo Paolo ad affermare l'inscindibile legame tra la fede cristiana e la risurrezione di Cristo. Ed è sempre utile ascoltare e ricordare le sue vehementi parole ai Corenzi. Se Cristo non è risorto, vuota è allora è la vostra fede e la nostra predicazione. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Ma se Cristo non è risorto, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Gesù stesso aveva indicato la sua risurrezione come il segno per eccellenza dell'autenticità della sua missione. Agli avversari che gli chiedevano un segno e gli dà una risposta che difficilmente si può attribuire ad altri che a lui per la sua laconicità. Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. I suoi oppositori sapevano bene che Giona non era rimasto per sempre nel ventre della balena, ma che dopo tre giorni era risorto. Ho parlato in un'altra meditazione del pregiudizio presente nei non credenti nei confronti della fede, che non è minore di quello che essi rimproverano ai credenti. Rimproverano infatti ai credenti, a noi, di non poter essere obiettivi dal momento che la fede impone loro in partenza la conclusione a cui devono giungere, senza accorgersi che altrettanto avviene tra di essi. Se si parte dal presupposto che Dio non esiste, il soprannaturale non esiste, i miracoli non sono possibili. La conclusione a cui si giungerà è anch'essa data in partenza, e perciò è alla lettera un pregiudizio. La risurrezione di Cristo costituisce il caso più esemplare di ciò. Nessun evento dell'antichità è suffragato da tante testimonianze di prima mano come questo, alcune di esse risalenti a personalità del calibro intellettuale di Saulo di Tarso, che aveva in precedenza fieramente combattuto tale credenza. Egli fornisce un elenco dettagliato di testimoni, alcuni dei quali ancora in vita che avrebbero quindi potuto smentirlo. Si fa leva sulle discordanze circa i luoghi e i tempi delle apparizioni del risorto, senza rendersi conto che questa non programmata coincidenza sul fatto centrale è una riprova della verità storica di esso più che una smentità. nessuna armonia prestabilita in questo caso. Prima di essere messi per iscritto, gli eventi della vita di Gesù furono per decenni trasmessi per via orale. E variazioni, adattamenti marginali sono tipici di ogni racconto che una comunità viva e in espansione fa delle proprie origini. E' la conclusione a cui è giunta la più recente e accreditata ricerca critica sui Vangeli. non ci sono del resto soltanto le apparizioni. San Giovanni Crisostomo ha una pagina famosa a cui l'indagine critica moderna non ha potuto togliere nulla della sua forza di convinzione. Come poteva venire in mente a dodici poveri uomini, e per di più ignoranti, che avevano passato la vita sui laghi e sui fiumi di intraprendere una simile opera? Essi che mai forse avevano messo piedi in una città o in una piazza? Come potevano pensare di affrontare tutta la terra? Non avrebbero piuttosto dovuto dire, e adesso? Non ha potuto salvare se stesso, come potrà difendere noi? In vita non è riuscito a conquistare una sola nazione, e noi con il solo suo nome dovremmo conquistare il mondo intero? Non sarebbe da folli mettersi in una simile impresa, o anche semplicemente pensarla? È evidente, perciò, che se non lo avessero visto risuscitato e non avessero avuto una prova inconfuttabile della sua potenza, non si sarebbero esposti mai a tanto rischio. A tutte queste prove il non credente non può opporre se non la convinzione che la risurrezione dai morti è qualcosa di soprannaturale, e il soprannaturale non esiste. E cos'è questo, ripeto, se non appunto un pregiudizio? Un a priori? Fides Christianorum Resurrexio Christi Est, ha scritto Sant'Agostino. La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. E aggiungeva, tutti credono che Gesù sia morto, anche i reprobio credono, ma non tutti credono che sia risorto. E non si è cristiani se non si crede questo. Questo è il vero articolo con cui la Chiesa sta o cade. Negli Atti, gli Apostoli sono definiti semplicemente testimoni della sua risurrezione. Valeva dunque la pena, generati i bandi, i fratelli e sorelle, rinverscare la nostra fede su di essa, prima di celebrarla liturgicamente fra qualche settimana. Solo adesso, dopo aver messo al sicuro il fatto storico della risurrezione, possiamo dedicare la nostra attenzione al significato esistenziale della parola di Gesù. Io sono la risurrezione e la vita. Commentando l'episodio della risurrezione dei morti apparsi a Gerusalemme al momento della morte di Cristo, San Leone Magno scrive, appaiano anche ora nella città santa, cioè nella Chiesa, i segni della futura risurrezione. E ciò che deve compiersi un giorno nei corpi si compia ora nei cuori. Ci sono, in altre parole, due risurrezioni, due tipi di risurrezione. C'è una risurrezione del corpo che avverrà nell'ultimo giorno e c'è una risurrezione del cuore che deve avvenire ogni giorno. Il modo migliore per scoprire cosa si intende per risurrezione del cuore è osservare cosa produsse spiritualmente la risurrezione fisica di Gesù negli Apostoli. Pietro inizia la sua prima lettera con queste parole solenni. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi. La risurrezione del cuore è dunque la rinascita della speranza. Stranamente, la parola speranza è assente nella predicazione di Gesù. I Vangeli riportano molti detti di Gesù sulla fede, sulla carità, nessuno sulla speranza. Anche se tutta la sua messaggio su Vangelo parla di una vita che non muore. Al contrario, dopo la Pasqua, vediamo esplodere letteralmente l'idea e il sentimento della speranza nella predicazione degli Apostoli. Dio stesso è definito il Dio della speranza. La spiegazione dell'assenza dei detti di Gesù sulla speranza è semplice. Cristo doveva prima morire e risorgere, perché risorgendo ha aperto la fonte della speranza. Ha inaugurato l'oggetto stesso della speranza, che è una vita con Dio oltre la morte. Proviamo a vedere cosa potrebbe produrre una rinascita della speranza nella nostra vita spirituale. Gli Atti degli Apostoli raccontano ciò che accadde. Un giorno, davanti alla porta del Tempio di Gerusalemme, chiamata la Porta Bella. Presso di essa giaceva uno storpio che chiedeva l'elemosina. Un giorno passarono di lì Pietro e Giovanni. E sappiamo quello che accadde. Lo storpio, guarito, balzò in piedi e finalmente, dopo chissà quanto tempo che stava lì abbandonato, varcò la soglia, entrò nel Tempio, saltando e lodando Dio, dicono gli Atti. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche a noi grazie alla speranza. Spesso ci troviamo anche noi, spiritualmente, nella posizione dello storpio sulla soglia del Tempio. Inerti, tiepidi, paralizzati di fronte alle difficoltà. Ma ecco che la speranza divina portata dalla parola di Dio ci viene vicino. E come Pietro disse allo storpio e Gesù disse un giorno al paralitico, dice anche a noi, alzati e cammina, alzati e cammina. E noi ci alziamo. Entriamo finalmente nel cuore del Tempio, cioè della Chiesa, pronti ad assumere di nuovo e con gioia i compiti e le responsabilità che la provvidenza o l'obbedienza ci assegnano. Questi sono i miracoli quotidiani della speranza. Essa è davvero una grande taumaturga, operatrice di miracoli. Rimette in piedi migliaia di storpi e paralittici spirituali, migliaia di volte. Ciò che è straordinario rispetto alla speranza è che la sua presenza cambia tutto anche quando esteriormente non cambia nulla. E io ho un piccolo esempio personale nella mia vita di questo. Chiedo scusa di la convidenza. Io sono un uomo che teme il freddo molto più del caldo. Ora in marzo, in Italia, più o meno la stessa temperatura che in novembre. Cioè l'inizio della primavera e l'inizio dell'autunno. Ma per molto tempo constatavo che il freddo di marzo mi faceva molto meno problema di quello di novembre. E mi sono domandato perché. E ho scoperto la risposta. Perché il freddo di marzo è un freddo con speranza. Perché si va verso l'estate, il freddo di novembre è un freddo senza speranza. La lettera agli ebrei definisce la speranza un'ancora sicura e salta della nostra vita. Sicura e salta perché è gettata non sulla terra, ma in cielo. Non nel tempo, ma nell'eternità. Oltre il velo del santuario, dice la lettera. Questo simbolo dell'ancora è diventato classico. Ma abbiamo anche un'altra immagine della speranza, in un certo senso opposta a questa. E cioè la vela. Se l'ancora è ciò che dà sicurezza alla barca e la mantiene ferma tra le onde, la vela è ciò che la fa muovere, avanzare nel mare. In entrambi i modi opera la speranza, sia nei riguardi della barca della Chiesa che nei riguardi della barchetta della nostra vita personale. È davvero come una vela che raccoglie il vento, che è lo Spirito Santo, e senza rumore lo trasforma in forza motrice che trasporta la barca sulle acque. Come la vela nelle mani di un buon marinaio è in grado di sfruttare qualsiasi vento, da qualsiasi direzione, spiri favorevole o sfavorevole, per muovere la barca nella direzione voluta, così fa la speranza. Innanzitutto, la speranza ci viene in aiuto nel nostro personale cammino di santificazione. La speranza diventa in chi la esercita il principio stesso del progresso spirituale. Essa è sempre allerta per scoprire nuove occasioni di bene realizzabili. Perciò non permette di adagiarsi nella tiepidezza, nella acidia. La speranza è l'esatto contrario di quello che a volte si pensa. Non è una disposizione interiore, bella, poetica, che fa sognare, costruisce mondi immaginarie. No, no, al contrario. È molto concreta, pratica. Passa il tempo mettendoti davanti sempre compiti da svolgere. Quando in una determinata situazione non c'è assolutamente nulla da sperare, dice il filosofo credente Kierkegaard in uno dei suoi discorsi edificanti, allora sì sarebbe la paralisi e la disperazione. Ma la speranza scopre sempre che c'è qualcosa che si può fare per migliorare la situazione. Lavorare di più. Essere più obbedienti. Più umili. Pregare di più. Quando sei tentato di dire a te stesso non c'è più niente da fare, e ancora Kierkegaard che ci parla, la speranza si fa avanti e ti dice prega. Tu rispondi ho pregato. E lei prega ancora. E anche quando la situazione dovesse diventare talmente dura che non sembra ci sia davvero più nulla da sperare, la speranza ci indica comunque un compito. Resistere fino alla fine e non perdere la pazienza. Questi traguardi ditati dal filosofo credente sono esigenti, se non addirittura eroici. È chiaro che essi non sono possibili per le nostre forze, ma solo per la grazia di Dio che però non ci viene mai meno. La speranza ha un rapporto privilegiato nel Nuovo Testamento con la pazienza. È il contrario dell'impazienza, della fretta, del tutto subito. È l'antidoto allo scoraggiamento. Mantiene vivo il desiderio ed è anche una grande pedagoga, nel senso che non indica tutto in una volta, tutto quello che c'è da fare o che si può fare, ma ti mette davanti una possibilità alla volta, da solo il pane quotidiano, distribuisce lo sforzo e così permette di realizzarlo. la scrittura mette continuamente alla luce anche un'altra verità, che la tribolazione non toglie la speranza, anzi l'aumenta. La tribolazione, scrive l'Apostolo Paolo, produce la pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata è la speranza. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza ha anzi bisogno della tribolazione, come la fiamma ha bisogno del vento per rafforzarsi. Le ragioni terrene della speranza devono morire una dopo l'altra perché emerga la vera ragione incrollabile che è Dio. Succede come nel varo di una nave. È necessario che vengono rimosse le impalcature che sostenevano artificialmente la nave quando era in costruzione che vengono tolti uno dopo l'altro i puntelli perché possa galleggiare e avanzare liberamente sull'acqua. La tribolazione ci toglie ogni presa ci porta a sperare solo in Dio. Conduce a quello stato di perfezione che consiste nello sperare quando sembra non ci sia più motivo di speranza. Cioè nel continuare a sperare confidando nella parola pronunciata una volta da Dio anche quando ogni ragione umana per sperare è scomparsa. Questa fu la speranza di Maria sotto la croce ed è per questo che la pietà cristiana la invoca Mater Spei Madre della speranza. La forza trasformatrice della speranza è meravigliosamente descritta in un brano di Isaia che conosciamo bene. Anche i giovani faticano e si stancano gli adulti inciampano e cadono ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza mettono ali come aquile corrono senza affannarsi camminano senza stancarsi l'oracoel è la risposta all'amento del popolo che dice la mia sorte è nascosta al Signore Dio non promette di togliere le ragioni della stanchezza e dello sfinimento ma dona la speranza la situazione apparentemente rimane quella che era prima ma la speranza dà la forza per superarla nel libro dell'Apocalisse leggiamo quando il drago si vide gettato sulla terra inseguì la donna che aveva partorito il figlio maschio la donna era chiesa ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché potesse volare verso il suo luogo nel deserto se l'immagine delle ali dell'aquila si ispira come sembra chiaro al testo di Isaia questo significa che a tutta la Chiesa sono state date le grandi ali della speranza affinché con esse possa ogni volta sfuggire agli attacchi del male e superare ogni difficoltà allora e oggi terminiamo ascoltando come è fatta ora su di noi l'invocazione che l'Apostolo Paolo fa a favore dei fedeli di Roma al termine della sua lettera il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo per la virtù dello Spirito Santo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo l'Apostolo l'Apostolo